Beh, qui andiamo avanti. Faccio una considerazione. Diciamo, da quando è iniziato tutto, in qualche modo è come se fossimo tutti... intanto siamo tutti sulla stessa barca. Ed è come se fossimo tutti più connessi. Più connessi, diciamo, con i nostri parenti, colleghi, amici. Io personalmente sento le persone molto di più di prima. A voce, al telefono, in call. Anche i miei genitori, in qualche modo è come se li vivessi di più. Ovviamente in un modo nuovo, digitale, virtuale, non fisico. Questo ovviamente mi manca, come credo manchi a tutti. Però questa potrebbe essere un po' una chiave di lettura. A me piace sempre vedere la parte positiva di questa situazione. E in quest'ottica il lato positivo è che abbiamo la possibilità di aumentare le nostre connessioni. E questo, oltre a servire sicuramente per resistere, perché adesso si tratta di resistere ancora settimane, forse mesi, è anche un modo per avvicinarsi a quelle persone che magari prima erano lontane. Io ho cominciato a scrivere, a cercare di rimettermi in contatto con persone che non sentivo più. Non che non le sentissi vicini, ma ci eravamo allontanati nel corso del tempo. E ora alcuni mi hanno risposto, altri no. Questo non importa. Io credo che la vicinanza e l'empatia debba vincere rispetto a tutto il resto. Rispetto al rancore, rispetto a quello che era prima. Se c'è una cosa buona, se vogliamo vedere una cosa buona di questo virus, è che abbatte ogni barriera. Siamo tutti nella stessa situazione in tutto il mondo. Quattro miliardi di persone chiusi dentro casa. E quindi non possiamo farci, far vincere il rancore, ma dobbiamo cercare di collegarci e di stare tutti collegati. Questa è un po' una cosa che cercherò di mettere in pratica e lo consiglio anche a voi.